Ora che il leader cinese, Xi Jinping, si è assicurato il suo terzo mandato, gli attivisti stanno sperimentando nuovi modi di protestare. Alcuni di loro cellano i messaggi nei bagni pubblici. Diamo uno sguardo più da vicino. Graffiti con messaggi furiosi e scarabocchiati su tutte le porte dei bagni potrebbero essere uno spettacolo comune in gran parte del mondo, ma non in Cina. Il carattere cinese scarabocchiato in questo bagno di Pechino recita contro la dittatura, contro i test Covid. Messaggi come questo si stanno diffondendo nei bagni di diverse città cinesi e perché in una Cina fortemente sorvegliata i bagni pubblici sono uno dei pochi posti senza telecamere di sicurezza. Questo graffito dice di rimuovere il dittatore e traditore nazionale Xi Jinping. Alcuni sono scritti in inglese «No al Covid test», «Si al cibo», «No al lockdown», «Si alla libertà», «No al grande leader», «Si al voto». «Non essere uno schiavo», «Si un cittadino». I loro messaggi sono copiati dagli slogan scritti su due striscioni appesi su un trafficato cavalcavia di Pechino. Una rara portessa in Campidoglio, a pochi giorni dall'inizio del congresso del Partito Comunista, gli striscioni sono stati ripuliti e poi censurati dai social media. Ma non hanno impedito alle persone di replicare l'atto in tutto il mondo. Gli stessi slogan sono stati appesi al Westminster Bridge di Londra e su un'ambasciata cinese a Londra. Ma all'interno della Cina le manifestazioni pubbliche di dissenso verso Xi sono estremamente rare, possono arrecare lunghe piene detentive o peggio. Abbiamo parlato con un uomo che ha scritto in un bagno. Stiamo proteggendo la sua identità per paura di ritorsioni. Ho dovuto indossare una maschera e mentre scrivevo temevo che qualcuno potesse beccarmi. Possiamo scrivere slogan solo in luoghi come i bagni per esprimere le nostre opinioni politiche. È così triste dover essere repressi fino a questo punto. In un'altra città cinese una persona ha scritto gli stessi slogan con una foto dei guini de poe de crow censurato. La Cina ha censurato qualsiasi immagine del personaggio dei cartoni animati somiglianti a Xi. Non è chiaro quanto siano diffuse queste opinioni in uno stato di polizia, ma le frustrazioni in Cina per le misure a zero covid del paese stanno crescendo. Rigidi blocchi per una manciata di casi covid, costanti test covid, strutture di quarantena di massa, gli slogan anti Xi si stanno diffondendo rapidamente dalla Cina e campus in America e in tutto il mondo. E a Parigi uno spettacolo all'aperto per parodiare il governo di Xi Jinping. Xi era vestito con gli abiti dell'imperatore e poi è stato trascinato giù dagli agenti del covid. Se non facciamo nulla significa che siamo disposti a essere governati dal PCC. Quando ho visto i graffiti in quel bagno ho iniziato a piangere. Dimostra che alcuni cinesi vogliono la democrazia e la libertà di parola e sono disposti a pagarne il prezzo. Eppure il potere di Xi è corazzato, la rabbia del pubblico si è ridotta a scarabocchi sulle porte dei bagni e anche quelle saranno ridipinte all'istante.